Siamo al Rera Holstein, è un'azienda agricola dove viene prodotto latte. Questo allevamento è composto da 350 capi. La mia passione è anche fare le fiere. Io quindi allevo, compro e vendo anche animali da show. L'animale da show è gestito a parte in quanto necessita di essere accudito, essere pulito in modo meticoloso e giorno dopo giorno. Partecipare a una mostra è molto impegnativo, però è la passione che mi spinge a fare questo. La passione per lo show mi è stata tramandata da mio padre. Tanti anni fa anche lui partecipava alle mostre provinciali. Io sin da piccolo mi sono innamorato subito di questo mondo, della competizione, ma soprattutto anche dell'aggregazione, dell'unione tra gli allevatori, passare delle ore a discutere, a parlare dei nostri problemi, quando magari durante il tempo dell'anno non abbiamo questa possibilità di ritrovarci. Nel 2020 a causa Covid non si sono fatte mostre e adesso siamo ripartiti nell'ottobre 2021 e abbiamo fatto la riserva assoluta con CME Atvo Jenny. Il prossimo appuntamento sarà il The Rishow a Verona, una mostra internazionale dove oltre agli allevatori italiani possono venire anche allevatori da tutta Europa. Poi avremo un appuntamento molto importante a fine novembre, sempre a Verona, che è il confronto europeo, dove partecipano gli stati membri europei, portando le loro meglio selezione che hanno in quel momento. L'Italia quest'anno ha il compito di organizzare questo evento internazionale molto importante, che riscuote molto successo, attira molto pubblico, non solo europeo, ma anche partecipanti soprattutto negli ultimi anni che vengono anche dal Nord America a vedere la nostra selezione.